Il diritto di famiglia è sicuramente la materia più complessa del panorama giuridico ed è una materia per avvocati completi. Spesso e volentieri, accanto ad una separazione o un divorzio, o comunque ad una procedura familiare in generale, ci sono vicende di rilevanza penale. Ciò significa che l'avvocato familiarista non possa non conoscere anche i fondamentali del diritto penale e del diritto processuale penale. È proprio la completezza dell'avvocato della famiglia che oggi diventa una necessità per uno studio legale. Perché un conto è occuparsi di questioni di carattere condominiale, con tutto il rispetto, un conto è occuparsi di disgregazione familiare. Per cui uno studio legale che si rispetti, soprattutto nelle grandi aree urbane, nelle grandi città, deve saper affrontare tutte le questioni civili e penali. Abbiamo il codice rosso che dobbiamo conoscere, come si redige una quarela, come si redige una denuncia, come si fanno le indagini difensive, come si ci si rapporta con i consulenti di parte, d'ufficio, con il pubblico ministero. Il cliente deve essere seguito in tutto e per tutto a 360 gradi. Pertanto l'avvocato penalista della famiglia è oggi sicuramente una branca a sé stante rispetto al diritto penale, ma molto legata al diritto di famiglia. Pertanto nel mio studio, ma credo che negli studi più attrezzati, sicuramente un cliente, un assistito, un paziente, come lo chiamo, che ha problemi di famiglia e che ha subito dei danni gravi derivanti da reati, bene, questo cliente deve essere seguito in tutte e due le sedi, quella penale e quella civile. Per tutte le altre informazioni iscrivetevi al canale Studio Legale Cassani. Alla prossima!